E' stata una bella giornata. Ah si? Dimmi un po'. Molto buone queste polpette. A che gioco stai giocando, furbacchione? Ok, va bene. Però promettimi che non ti arrabbi. Che hai combinato? Ferdinando ci vuole ancora bene. E' andato a trovare la mamma al cimitero. Sei andato da lui? Eh... Ragazzo, tu ora verrai con me. Preparati alla svelta. Cosa dite mio signore? Ho una missione da compiere e tuo figlio mi accompagnerà. Gli altri si preparino per la partenza di domani. La prego mio signore. Mio figlio no. Ho già perso il mio primo genito. Non me lo porti via. Tutti abbiamo perso qualcuno. Vi prego, qualsiasi cosa debba fare, porti via. Tuo figlio corre velocemente e sa difendersi. Se fossimo attaccati avrebbe molte più speranze di te di sopravvivere. e poi conosce la cognitum. Nero Gennaro Esposito, e tu in questo cortile non devi venire completamente? Tu sei un nome chic, e io? Chi sono qui? Il poverello che ha scopo a mano, ha già faticato giorni e notti. Voglio venire questa zona, chissà la zona mia, e ha spazio fino a quando vivo. Avanti. Comandi, signor procuratore. E questo è un mandato di cattura per questi uomini, provvedete subito. Procuratore, questa notte organizzerò con i miei uomini un'arretata. E prenderemo sia Giuseppe Tacco, che tutta la convincola. Bene, può andare. Comandi. Ester. 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 Grazie a tutti